Oh, my God! Oliver! Barbara! Gavin! Gavin! Gavin, prendi la scala! Ok! Beh, lo sapevo che finiva tutto bene. Gavin! 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 Eh, ce la caveremo, cara. Vedi quei due cavi? Sì. Ognuno di loro può reggere almeno 100 kg. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.